Vediamo in questo tutorial come possiamo realizzare una presentazione multimediale utilizzando l'intelligenza artificiale di ChatGPT e gli strumenti grafici di Canva. Come prima cosa dobbiamo accedere a ChatGPT 3.5 che è la versione gratuita e quindi scrivere la nostra istruzione. In questo caso io ho chiesto a ChatGPT di creare una semplice presentazione di scienze per spiegare gli ecosistemi a bambini di 9 anni. Questa è l'istruzione che ho inserito. Creami una presentazione per spiegare gli ecosistemi a bambini di 9 anni. La presentazione deve essere semplice ed essenziale e fornire esempi che facilitino la comprensione da parte dei bambini. Questi sono i 5 titoli che devi sviluppare. 1. Cosa è un ecosistema? 2. Gli ecosistemi acquatici. 3. Gli ecosistemi terrestri. 4. Le funzioni di un ecosistema. 5. Le catene alimentari. Fornicimi la presentazione in un formato che mi permetta di importarla su un file Excel divisa in due colonne. Una per i titoli e una per i paragrafi. Use il punto e virgola per dividere titoli e paragrafi. Prima di procedere dimmi se è chiara la mia richiesta e se sei in grado di assolverla in maniera efficace. Come avrete notato nella seconda parte dell'istruzione ho dato delle indicazioni molto precise relative al formato. Queste indicazioni sono molto utili perché mi permetteranno poi di importare più facilmente questa presentazione prima su un file Excel e poi su Canva. Questo è il risultato. Come vedete si tratta di una presentazione molto semplice come l'ho chiesta io ed effettivamente i titoli e i paragrafi sono divisi dal punto e virgola. Bene, adesso come prima cosa devo andare a copiare il codice quindi vado a cliccare in alto a destra su copy code e vado a incollarlo su un file Excel o anche un foglio di Google. Una volta incollato devo dividere il testo in due colonne. Per fare questo vado prima di tutto a selezionare la colonna che mi interessa e vado poi a cliccare qua in alto su dati. Clicco quindi su suddividi il testo in colonne. Mi viene chiesto quindi di scegliere un criterio per separare le due colonne. Io vado ad aprire questo menu a tendina qua in basso e scelgo come criterio proprio il punto e virgola che è lo stesso criterio che avevo precedentemente dato a chargbt. Bene, a questo punto il testo è diviso in due colonne. Abbiamo una colonna A per i titoli e una colonna B per i paragrafi. È pronto quindi per essere importato su Canva. Effettuiamo quindi l'accesso a Canva con il nostro account di istituto e clicchiamo qua in alto a destra su crea un progetto. Scegliamo quindi la presentazione didattica a 16 noni. Andiamo a cercare un modello utile per il nostro progetto. Vi basterà inserire ecosistemi nella barra di ricerca e quindi scegliere tra i modelli proposti. Una volta scelto il modello dovrò anche scegliere una slide che mi permetta di importare facilmente titoli, paragrafi e possibilmente anche un'immagine. Questa slide poi la dovrò duplicare più volte per importare in automatico tutti i contenuti precedentemente creati su chat gpt. Seleziono quindi la slide di mio gradimento, elimino gli elementi che non mi interessano e vado quindi ad attivare l'applicazione che mi permetterà di importare in automatico i contenuti. Mi sposto quindi sul pannello qui a sinistra, vado a selezionare la voce app e cerco crea in blocco. L'applicazione che devo utilizzare è la prima che compare qua in alto a sinistra, crea in blocco. Quindi una volta selezionata, come vedete mi chiede di inserire i miei dati. Io posso sia caricare direttamente il file Excel oppure inserire i dati manualmente. Li andremo a inserire manualmente, l'operazione è molto semplice, ci basterà infatti copiare e incollare le colonne precedentemente create nel nostro file Excel. Ci spostiamo quindi sul nostro foglio di lavoro, selezioniamo e copiamo il contenuto precedentemente creato. Torniamo quindi sul progetto Canva e andiamo a cliccare su inserire i dati manualmente. Quindi incollo il mio testo e vado a modificare anche l'intestazione, quindi il nome qua in alto diventerà titolo e qua email diventerà paragrafo. Clicco quindi su fatto. Adesso non mi resta che connettere i dati della slide ai miei contenuti. Vado quindi a selezionare il titolo all'interno della slide, clicco sui tre puntini qua in alto a destra e clicco su connetti dati, scelgo titolo. Stesso discorso per quanto riguarda il paragrafo, lo seleziono, vado a cliccare sui tre puntini qua in alto a destra, clicco su connetti dati e seleziono il paragrafo. Clicco quindi qua su continua. Canva mi chiede se voglio connettere tutti i miei dati per generare quindi cinque progetti, ovvero cinque slide. Andiamo quindi a generare le nostre slide. Bene, una volta generate le slide non mi resta che andare a ottimizzare la grafica. Facciamo una verifica. Come vedete sono state create tutte gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri, le funzioni di un ecosistema e infine le catene alimentari. Per ciascuna slide possiamo facilmente modificare l'immagine e quindi inserire un'immagine pertinente. In questo caso per esempio ho bisogno di un'immagine sui sistemi acquatici. Per inserirla velocemente posso utilizzare gli strumenti magici di Canva, ovvero l'intelligenza artificiale. andando a cliccare qua a destra su assistente Canva. Se io digito ecco sistemi acquatici, mi vengono forniti una serie di elementi che posso inserire nella mia slide. In questo caso vado a scegliere un'immagine. Mi basterà trascinarla sulla posizione desiderata e verrà inserita in automatico. Posso fare questo lavoro per tutte e cinque le slide. Ciao a tutti! A presto!